E' arrivato un premio importante per Imaneskin, questa band romana per eccellenza di Monteverde, infatti agli MTV Video Awards 2022 il primo gruppo è stato proprio Imaneskin a vincere un premio per il miglior video alternativo con la canzone che si intitola I Wanna Be Your Slave, che ovviamente non passa. Inosservata. I quattro vi ricordo che si trovano in corsa anche per la categoria miglior nuovo artista e relativo gruppo dell'anno, oltre che a salire nel palco dei premi con il brano intitolato Supermodel. Lo stesso Damiano avrebbe detto a margine o mai a conclusione di questa prima esprimensione che non se lo aspettavano minimamente. E' stato diciamo così come una sorta di fulmine a ciel sereno azzardo a dire. Insomma, Imaneskin possono ritenersi soddisfatti, possono ritenersi fortunati e ovviamente possono considerarsi molto molto felici per essere stati premiati agli MTV Video Music Awards 2022 come miglior video alternativo. Bene, complimenti dunque Imaneskin, il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, un cordiale saluto a voi e al prossimo video.